Va ora in onda il culto evangelico valdese, a cura della pastora Elisabeth Le Mann. Vi do il benvenuto a questo culto. Vogliamo raccoglierci insieme alla presenza del nostro Signore che la Sua parola di grazia e di misericordia possa illuminare la nostra vita. Il nostro principio, il nostro aiuto, la nostra consolazione sono nel nome di Dio che ha fatto i Cieli e la Terra e che ci salva in Gesù Cristo. Amen. Ascoltiamo alcuni versetti dal Salmo 97. Il Signore regna, esulti la terra e giuiscano le numerose isole. I Cieli annunziano la Sua giustizia e tutti i popoli vedono la Sua gloria. Poiché Tu, Signore, sei l'Altissimo, voi che amate il Signore, odiate il male. Egli custodisce le anime dei Suoi fedeli, li libera dalla mano degli empi. La luce è spuntata per il giusto e la gioia per i retti di cuore. Gioite nel Signore, giusti, e lodate il suo santo nome. Noi Ti lodiamo e Ti benediciamo, Signore, perché il Tuo amore ha rinnovato e rinnova la vita dell'umanità. Il Tuo Vangelo è annunciato in ogni parte della Terra e il seme del Tuo regno che hai piantato fra noi nella vita del Tuo Figlio Gesù continua a germogliare e a produrre frutti di giustizia e di pace. Per questo, in mezzo alle difficoltà e alle contraddizioni di questo mondo, noi abbiamo fiducia perché sappiamo della Tua presenza e della Tua fedeltà. Tu mantieni tutte le Tue promesse. Accogli la nostra lode in Gesù Cristo, nostro Redentore. Amen. Grazie a tutti, Signore. Grazie a tutti, Signore. Il testo della predicazione si trova in Esodo, capitolo 34, i versetti da 29 a 35. Poi Mosè scese dal monte Sinai. Egli aveva in mano le due tavole della testimonianza quando scese dal monte. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante, mentre egli parlava con il Signore. Aronne e tutti i figli di Gesù Cristo. Aronne e tutti i figli di Israele guardarono Mosè e videro che la pelle del suo viso era tutta raggiante. Perciò ebbero paura di avvicinare. Perciò ebbero paura di avvicinarsi a lui. Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia. Ma quando Mosè entrava alla presenza del Signore per parlare con lui, si toglieva il velo finché non tornava fuori. Poi tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano la sua pelle tutta raggiante. Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrava a parlare con il Signore. Il Signore benedica l'ascolto della sua santa parola. Caro sorelle e cari fratelli, Mosè portava la mascherina per 40 anni. Prima del Covid non mi ero mai fermata su questo particolare. Noi portiamo la mascherina ormai da due anni e ci scoccia. Con la mascherina non sentiamo del tutto di essere noi stessi. Senza mascherina ci sentiamo più liberi e diciamo sì, questo siamo noi. Mosè può togliere la mascherina. La toglie quando è alla presenza di Dio. E immagino che anche lui, in quel momento, si sente completamente se stesso, lì, alla presenza del Signore. Mosè mette la mascherina per conservarsi un minimo di vita sociale, come facciamo altronde anche noi. Però c'è un particolare, perché è anche un bene per gli altri. Quando loro vedono che Mosè ha la mascherina addosso, loro sanno che il Signore è ancora in mezzo a loro. sanno che la luce del Signore può anche illuminare le loro tenebre. Dopo tutto quello che era successo, il Signore è rimasto in mezzo a loro. Che cosa era successo? Sappiamo, voi saprete, che Israele era schiavo in Egitto e Dio l'aveva liberato e aveva portato il suo popolo al monte Sinai. Aveva stretto un patto con il popolo. E poi Mosè, che aveva guidato il popolo, era salito sul monte e era rimasto lì al cospetto del Signore per 40 giorni e 40 notti. Il popolo lo aspettava, però l'attesa si era fatta lunga. Il popolo aveva perso la pazienza e aveva chiesto ad Aronne di intervenire. Il popolo sentiva il vuoto dell'assenza di Mosè e si era chiesto, ma Dio è ancora presente con noi? Non piace sentire il vuoto. Non piace né a Israele e neanche a noi. In questo noi siamo uguali a Israele. Non ci piace sentire il vuoto. E corriamo subito, come Israele, a cercare a colmarlo. Aronne, che cosa fa? Prende ciò che lucica. Prende l'oro. E ne fa una statua. Il vitello d'oro. Diventa il nuovo Dio di Israele. Che cosa facciamo noi quando noi sentiamo il vuoto nella nostra vita? Perché anche il nostro cervello cerca subito di colmare quel senso di vuoto. Che facciamo noi? Anche la nostra sensazione è quella di prendere ciò che lucica. In quello non siamo diversi da Aronne. Prendiamo ciò che lucica. Prendiamo lo schermo del nostro cellulare, accendiamo la televisione, oppure prendiamo i soldi e facciamo acquisti. Durante il Covid, in un anno e mezzo di Covid, i dieci uomini più ricchi del mondo hanno raddoppiato le loro ricchezze. Quello prima succedeva in 14 anni, adesso in un anno e mezzo. Perché? Perché noi sentivamo un vuoto nella pandemia e abbiamo cercato di colmarlo. L'abbiamo cercato di colmare con quello che questi dieci uomini offrono. Il consumo, l'acquisto di oggetti, oppure l'intrattenimento digitale. Sappiamo che quel modo di agire non fa bene né a noi né al mondo. Ma lo facciamo. Lo facciamo perché sentiamo il bisogno di colmare il vuoto nella nostra vita, anche se sappiamo esattamente che lo colma solo per poco tempo. Quando Mosè sente il vitello d'oro, lui è deluso e arrabbiato. E vengono colpiti i responsabili. È un tratto della Bibbia che non ci piace. Non ci piace leggere quella parte quando vengono colpiti i responsabili. Però invece di fermarci su quella parte che non ci piace, guardiamo a noi. Che succede da noi? Perché mentre i dieci uomini più ricchi raddoppiano le loro ricchezze, ci sono 160 milioni poveri che rischiano di non farcelo. È una cifra enorme che si aggiunge già alla cifra enorme dei poveri nel mondo. Proprio stamattina ho sentito che ci sono 800 milioni di persone nel mondo che non hanno abbastanza da mangiare. Il vitello d'oro produce vittime, solo che nel nostro mondo le vittime sono gli innocenti. Mosè scende dal monte e spezza le tavole. Sono le tavole dei dieci comandamenti. Sono le regole della convivenza. Il consumo esagerato spezza le regole della convivenza. Frantuma la convivenza. Ma Dio? Dio non lascia il suo popolo. Dopo una trattativa con Mosè, rinnova le sue parole di misericordia verso il popolo. Un nuovo inizio diventa possibile. Mosè ritorna sul monte e sta di nuovo davanti al Signore per 40 giorni e 40 notte, senza mangiare e senza bere, cioè senza distrarsi. Il Signore rinnova le tavole dei dieci comandamenti. e alla presenza del Signore, quando ascolta le parole del Signore, Mosè si illumina, irrada sul suo volto, dal suo volto, la gloria di Dio. Non l'oro, non l'argento, non lo schermo del nostro cellulare possono illuminare le nostre vite. non possono colmare il vuoto che noi sentiamo nella nostra vita. E il vuoto si colma quando noi stiamo alla presenza del nostro Signore, quando ascoltiamo la Sua parola. Noi stiamo vivendo un tempo particolare nel quale ci sentiamo sospesi, nel quale è difficile continuare a essere pazienti, perché sentiamo un vuoto che vogliamo colmare. Il nostro testo ci incoraggia, ci incoraggia a resistere e di non colmare il vuoto subito con ciò che lucica. Il nostro brano ci incoraggia a cercare la presenza del nostro Signore, di cercare Lui e di lasciare Lui illuminare le nostre vite. dalle sue parole di grazia e dalle sue regole di convivenza. E quando noi stiamo alla presenza del Signore, le nostre maschere possono cadere. No, anzi, le nostre maschere cadono. Davanti a Lui possiamo essere noi stessi. e il vuoto nella nostra vita si colma e noi troviamo noi stessi e la nostra completezza. Amen. Grazie a tutti. 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 Preghiamo Signore Dio nostro illumina la nostra vita possa essere questo il momento per noi di ritrovarci in Te e nella Tua parola. La Tua parola ci fa vedere la tua parola ci fa vedere le ingiustizie nel mondo. I ricchi diventano più ricchi mentre sempre più poveri rischiano di non farcela più. ti preghiamo per loro. Ti preghiamo per loro. Tu ci hai insegnato a condividere. Aiutaci a non rimanere chiusi in noi stessi cercando distrazione invece di concentrarci su di te e di lasciarci spingere da te a combattere l'ingiustizia e il male nel mondo. Signore noi ti preghiamo per chi è disperato e non riesce neanche più a trovare te. Possa il tuo amore raggiungerlo e aprirlo alla vita. Signore ti preghiamo per chi è malato per chi è in ospedale e per chi rischia a non trovare la cura in tempo. Ti preghiamo in questo periodo in modo particolare per chi lavora in ospedale per chi lavora nelle case di cura e di riposo e nei vari studi medici. Loro devono affrontare molte fatiche. Dona loro forza. Tanta forza. Affinché la compassione loro non venga mai meno. Ti preghiamo per chi non ha lavoro e per chi lo cerca. Signore questo te lo chiediamo nel nome di Gesù e con le sue parole preghiamo insieme Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci espora alla tentazione ma liberaci dal male tuo regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. La benedizione del nostro Signore sia su di voi. Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore volga verso di voi il suo volto e vi dia pace. Amin. Gloria, gloria, solideo, gloria Solideo, solideo, gloria 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.